...e alcuni elementi rappresentativi sono fortemente culturali per esempio il travestimento maschile in panni femminili che è molto forte e rappresenta veramente quella ambiguità di una rappresentazione che serve proprio a drammatizzare la scrittura in casa del principio maschile e della scrittura in carattere della scrittura degli attori di Ascoltà e soltanto sono diversificati, sono diversificati, sono diversificati l'ho trovato in un'altra cosa in Italia che si legavano un particolare della floresta dell'ambiguità e dell'inizio di scuola e dell'inizio di scuola